Gianluca Dannelli al CIV con una nuova moto con il Ducati Sì, quest'anno è un'odissea veramente, sto cambiando tante cose, sono felice di aver raggiunto l'accordo con questa squadra perché ho ritrovato la moto di cui sono tifoso fin da piccolo, quindi è come un calciatore giocare nella squadra del cuore, è bello Sto facendo un'esperienza nuova con i pneumatici Michelin, è la prima volta che li uso, questi da superbike li ho usati solo lo scorso anno in Spagna quando correvo in moto 2 ma è una cosa diversa e devo un po' reimparare a guidare la moto in un modo diverso quindi qua sono per fare più che una gara un grande test un grande test dove ci sono anche delle pressioni perché comunque sono in casa, vorrei fare un buon risultato ma mi rendo conto che ancora devo lavorare sul mio stile di guida per tirar fuori il massimo da questo pacchetto e ogni turno comunque tolgo un paio di secondi, il problema è che sono partito da molto lontano e allora speriamo che nei prossimi turni di domani se il signore ci lascia questo tempo così buono non come ieri, togliendo un'altri 2-3 secondi siamo là davanti finalmente e poi si sarà le ultime gare perché ormai finisci col team grande la Ducati si si finirò la stagione col team grande Michelin e ho visto che lavorando e mantenendo un po' di calma riesco a ottenere dei buoni risultati, sono uno un po' aggressivo io ciao